Ciao! Oggi qua di fianco a me siede Inga, che è una dei teacher della nostra university. Ok, parliamo già inglese perché siamo... A livelli alti. Avremo diversi teacher in questa university. Ci sarò io, ci sarà la Inga, ci sarà la Yana, ci sono i dottori del policlinico, ci sono gli studenti che sono qua che ci stanno ascoltando e ci sono tutte le domande a cui rispondere che ci fate ogni giorno. Ok, abbiamo provato a tirare giù degli argomenti queste settimane però ci siamo resi conto che alla fine molte cose noi le diamo per scontato. Come dicevo prima, stavamo facendo streaming da un'altra parte, ci siamo accordi dopo un po' e dicevo prima che molte cose che a noi non ci vengono in mente, poi ce le fate ogni giorno queste domande e ci siamo resi conto che se noi rispondiamo in maniera pubblica facendo lo streaming possiamo dare risposta a tutti quanti in un unico momento. Cioè chiunque sta nel gruppo magari ha quella stessa domanda o non ci aveva pensato, con questi video, con queste giornate educative che poi si riducono a una o due ore al giorno, riusciamo a rispondere. Oggi per esempio mi chiedevano delucidazioni sulla ricostruttiva dell'osso che delle volte ho fatto già dei video dove parlo per esempio di otto impianti dentali, di quattro impianti dentali, di sei impianti dentali, video dove parlo della parte protesica che si monta sopra. Una cosa che delle volte è poco chiara è capire perché non si possono mettere per esempio tanti impianti dentali. Gli impianti dentali si mette là dove c'è osso, se l'osso non c'è l'alternativa è ricostruire l'osso e poi mettere l'impianto. Ma se l'osso non ha senso ricostruirlo perché l'impianto poi sarebbe in una posizione non utile, allora quello è uno di quei casi in cui bisogna scendere al numero di impianti dentali più basso. Oppure un altro motivo per cui si mettono meno impianti è perché l'osso non solo non c'è, non si può ricostruire, ma ci passano anche vicino strutture nervose come per esempio la mandibola. E allora nelle zone posteriori non possiamo mettere gli impianti dentali. Inga, te lo volevo dire, se devi andare lei ha un esame, sta andando a dare un esame, esame di? Diritto Penale Militare. Voi non lo sapete ma lei è laureata e sta facendo il master adesso. Non lo dice mai. Vieni qua. Allora, che da solo vi viene Lazia a stare da solo in moto. Per fare un appoggio. Ok. Allora, se volete venite anche qua di fianco, così apro a monitor qua delle cose, metto a monitor delle cose, chi le vuole le può guardare su quel monitor, se no le apro qua direttamente su questo. Tanto voi da qui non solo vedete noi ma potete anche vedere il monitor che sto condividendo. Allora, ci sono dei casi, per esempio, come questi, allora, all on four, in cui vengono messi pochi impianti dentali su un paziente, per esempio 4, sui quali poi vengono montati tutti quanti i denti. Ok, la tecnica cosiddetta all on four. Questi sono dei casi in cui il paziente ha perso tutti i denti ma ha perso anche tutto l'osso. Allora che si fa? Si mettono gli impianti dentali, come vedete qua a monitor, due nella parte anteriore, due nella parte posteriore inclinata e dietro non si possono mettere impianti dentali, non per motivi economici ma perché l'osso è troppo riassorbito e va vicino al nervo. Vi faccio vedere ora per esempio una foto di mandibola atrofica. Andiamo a immagini, ne apriamo una di fotografia, eccola qua. Per esempio questa è, vabbè, abbiamo in caso questo limite. Vedete qua a monitor che c'è una radiografia dove questa parte bianca e la parte di mandibola rimasta sotto, qua in mezzo ci passa il nervo, qua pure questa ombra scura è il nervo e noi non possiamo mettere impianti dentali in queste zone, qua perché andremo se no a tranciare il nervo. In questi casi abbiamo la possibilità di fare degli interventi che ci permettono di fare impianti dentali in quelle zone. Se c'è il nervo uno cosa potrebbe pensare? Sposto il nervo. Ok, posso spostare il nervo. Se questa è la mandibola ci passa il nervo in mezzo, faccio una finestrella qua di fianco, vedo dove è il nervo, lo tiro e inserisco qua l'impianto. Questa è la trasposizione del nervo. Quella è una tecnica? Sì, il problema è che rimani poi paralizzato. Ok, alla fine, quindi fai la trasposizione però rimane sempre una parestesia di questa zona. Significa che bevi e ti cola, perché è un nervo sensitivo. È un nervo, non è il motorio che serve per muovere, è proprio sensibile. Baci una persona e non lo senti. Oppure c'è un ferro caldo che metti qua, ti ustioni e non te ne accorgi. Ok, sono tanti poi problemi che può dare. Certo sorridi e almeno non hai questo tipo di problema, insomma che è il motorio che sorridi così e qua rimane paralizzato. L'altro modo è una tecnica che si chiama invece, non è la trasposizione del nervo, mettere l'impianto di fianco al nervo. Ok, per esempio io vi faccio un disegno sulla lavagna, così ve lo spiego sulla lavagna in maniera chiara. Si chiama il bypass del nervo. Ok, io ho la mandibola, per esempio una mandibola di questo tipo, qua è atrofizzata e qui ci passa il nervo. Ok, io posso a questo punto tagliare questo pezzettino qua di osso, così che il nervo mi ha fatto lo scherzo. Ha fatto lo scherzo, Inga, mi ha dato i pennarelli indelebili. Allora, vediamo se ce n'è uno non indelebile. whiteboard. Ok, questa è per la whiteboard. Ok, vediamo se con la mia teglia regala via. Espedire l'esperienza. E vado a mettere l'impianto, il bypass, lo bypasso. Lo metto così, l'impianto. Ok? Metto, uso un impianto sottile, come vedi riesco a... Il problema è che l'asse di inserzione è troppo inclinato. Magari rispetto a un'asse che se avessi messo l'impianto qua, o che avrebbe avuto quest'asse. Questa è un'altra tecnica che esiste, ma non sempre si può fare perché poi mi ritrovo un impianto dentale che è troppo sottile, inutile per andare a montare, oltretutto me lo ritrovo disassato parecchio. Mi viene poi negli anni un riassorbimento dell'osso in questa zona. Ok, questa è un'altra tecnica che è stata proposta tanto tempo fa. E questa è la mandibola, ok, atrofizzata. Io posso a questo punto, se qua c'è il nervo, a un certo punto qui esce il nervo. Stessa cosa da questo lato, qui esce il nervo, posso usare questa zona qua per mettere impianti. E quindi vado a mettere in questa zona anteriore, con la tecnica per esempio di all-on-four, uno, due impianti nella parte anteriore e due nella parte posteriore. Se ne riesco a mettere quattro è meglio, perché? Perché quattro è meglio di due, perché se uno di questi fallisce, la distanza inizia a essere un po' troppa, flette sotto i carichi e si rompono i denti. Quindi è sempre meglio andare a rompere con più impianti, cioè a sopportare con più impianti la protesi sotto. L'altra alternativa, che è quella del professor Conte, che è stato qua la settimana scorsa, è andarci a poggiare qua dietro con delle placche. Proprio delle placche, che hanno poi dei pernetti che fuoriescono e quali io posso avvitare la protesi. Ed è quello che io sto andando a fare con l'equipe internazionale, andare a riprodurre queste placche con il digitale. E sono quelli che si chiamano gli impianti subperistei. Ancora, questi impianti subperistei hanno dei problemi che sono intanto il fatto che devono essere progettati su un attacco 3D, fatta l'impronta durante la chirurgia sull'osso. Bisogna poi andare a fabbricare i pezzi e l'unica fabbrica di questi impianti che c'è sta in Belgio. Ogni singolo impianto costa 9.000 euro. Mi sono già fatti fare quindi due placche e sarebbero 18.000 euro. Stiamo parlando di placche personalizzate. Stiamo parlando di chirurgia che è molto sofisticata perché necessita. Sono impianti che vengono fatti a mano, uno ad uno, mentre gli altri vengono fatti dai torni. Quelli sono impianti fatti in serie a migliaia. Questi invece vengono fatti personalizzati per ogni singolo.